ha fatto tappa al salone del libro il 22 maggio il hashtag dillo a tutti tour il progetto degli stati generali dello sport del consiglio regionale con il centro universitario sportivo di torino che si propone di fare nella pratica sportiva e dei corretti stili di vita gli strumenti di tutela della salute della prevenzione primaria tra le iniziative una campagna di informazione e promozione dei corretti stili di vita in cui sono coinvolti i giovani e il mondo universitario anche dal salone del libro diciamolo a tutti corretti stili di vita e buona alimentazione presidente nella terza tappa del dillo a tutti questa mattina straordinaria abbiamo appena ascoltato la nutrizionista dei danni che può fare il cibo e dei benefici che può apportare il cibo se noi iniziamo a sviluppare appunto quella consapevolezza del cibo che che mangiamo il cibo aiuto all'attività fisica l'integrazione tra attività combinato disposto e quindi l'integrazione tra attività fisica e attenzione alimentare possono portare straordinari benefici l'obiettivo proprio principale che una persona un cittadino deve sapere che la salute non è solo sua appartiene a tutti è un bene quindi collettivo nella nostra costituzione si parla della tutela della salute e noi quando pensiamo alla sanità non dobbiamo pensare alla sanità solo come momento di erogazione di un servizio sanitario di cura ma dobbiamo pensare alla sanità come prevenzione gli stati generali dello sport e del benessere che io ho il piacere e l'onore di rappresentare ha imboccato la buona strada Riccardo Delicio quale messaggio oggi dal salone del libro? Beh intanto direi che in un posto straordinario come questo in cui Torino oggi ha dimostrato di avere una grandissima appetenza di cultura di cultura a 360 gradi oggi che lo sport faccia parte di questo messaggio mi sembra molto molto interessante ancora una volta la regione Piemonte ha avuto il coraggio di investire su progettualità che coinvolgeranno tutto il territorio dillo a tutti è un messaggio di grandissima opportunità per cui un messaggio dove l'attività fisica e l'alimentazione insieme sono il farmaco a costo zero beh io credo che questo debba essere spinto il più possibile perché credo che sia l'unica maniera per aiutare realmente la sanità pubblica a risparmiare miliardi di euro io credo che ormai scientificamente è stato provato la politica ha preso a cuore questo progetto noi dello sport non possiamo che metterci a loro disposizione perciò davvero diciamolo a tutti fare attività fisica serve moltissimo dai bambini alla quinta età devo dire che il Custorino con i suoi centomila universitari con tutto il mondo accademico sta facendo tutto quello che è possibile perché sul territorio regionale ormai non più solo regionale questo messaggio passi sono salite le aspettative di vita oggi viviamo di più ma molto spesso viviamo male di più quali consigli professor Gili per arrivare certamente all'età più alta possibile ma arrivare in condizioni di salute ovviamente che rendano la nostra qualità di vita il più possibile accettabile come diciamo durante l'incontro si vive più a lungo ma ahimè i segni attuali ci dicono che si ammala anche prima quindi vuol dire che ci sono due segnali in controtendenza non devono spaventare perché in effetti la vita si è allungata parecchio e si allungherà ancora ma direi che il consiglio che va dato non possiamo delegare la nostra salute ad altri dobbiamo essere partecipativi ce lo chiedono in tutti i campi lo chiediamo anche nella salute essere partecipativi significa sostanzialmente avere capacità di distinguere tra le informazioni che ci vengono date formarci sull'argomento capire che il mondo della comunità scientifica offre delle grandi opportunità e che la medicina come la conosciamo cioè la cura deve essere sostanzialmente l'ultima spiaggia si può fare molto per vivere a lungo in salute con un po' di attività fisica con un miglioramento delle condizioni nutrizionali con un minimo di attenzione al proprio corpo non semplicemente per la prova costume ma tutti i giorni 365 giorni all'anno non sperando nei miracoli ma sperando in una continuità di azioni per mantenere il nostro stato di salute sono banali i cibi che fanno male sono banali anche i cibi che fanno bene allora però diamo qualche consiglio a chi ci ascolta da casa sulla corretta alimentazione dottoressa sì buongiorno in realtà sì sono banali nel senso che si mangia sano come si mangiava una volta non ci sono novità il messaggio che oggi deve passare non è tanto sui cibi sani sui cibi non sani ma il messaggio che deve passare è quanto diversamente impatta sulla nostra condizione di salute il mangiare male o il mangiare bene i cibi sono assolutamente vari oggi abbiamo fatto un focus su alcune malattie degenerative da zuccheri a rapido assorbimento come banalmente le bevande tutti sanno che è un cibo non sano non è una novità quindi non può essere questa la forza del messaggio comunicativo ma quello che tentiamo di fare nelle nostre tentative appunto di prevenzione primaria è far sì che ci sia consapevolezza su quanto fa male cioè ci sono dati di evidenza di sviluppi di carcinoma dell'endeometrio e carcinoma della mammella legati a questo consumo di zuccheri ad assorbimento veloce non siamo fatti per mangiare male quindi in realtà l'alimentazione sana è un'alimentazione banale come tutti sappiamo assolutamente quale sia non ci sono superfood che ci cambiano la vita ma va acquisita e trasmesse anzi prima trasmesse poi acquisita la consapevolezza di quanto fa male non mangiare sano però oggi una bella notizia pare esserci una correlazione tra il consumo di cioccolato e la genialità è così dottoressa? e i premi no, il cioccolato fondente effettivamente è considerato invece uno dei superfood per il magnesio per la vitamina E effettivamente è uno dei flavonoidi i flavonoidi hanno oggi grosso interesse in ambito di malattie neurodegenerative sull'alzheimer quindi proprio sullo sviluppo delle capacità cognitive quindi sia assolutamente approvato grazie a tutti